Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog da mio bagno! Buongiorno, sentite la lavatrice, già sono super operativa oggi, c'è un sole bellissimo, sembra veramente estate, io devo fare miliardi di cose, mi devo registrare un sacco di video, aspettate che magari spingo la luce altrimenti favo un sacco di corrette. Comunque, lo cacchio sono, scusatemi, scusatemi per non che calare. E niente, oggi devo girarmi un sacco di video, devo fare tante tante cose, mi sono già data una sistemata, ho fatto il mio trucco basic, insomma senza nulla, un po' di blush, un po' di rossetto nude. E sono pronta per uscire, mi sono già messa in tenuta sportiva, vi faccio vedere. Allora, mi sono messa praticamente questi leggings, che sono quelli là che avevo preso da Tally Whale, come cacchio si chiama, che mi piacciono tantissimo, comunque stanno consumando e mi servono sempre tanti leggings. E il mio culetto cresce forse, chissà, poco, poco per i miei gusti. Comunque ragazzi, mi sono messa questi leggings già pronti, perché comunque oggi ovviamente mi vado ad allenare, le mie Nike, calzini Adidas, e questa ferpetta è sempre la di Tally Whale, sotto una canottiera. E quindi già mi sono viste da sportiva, vi faccio tutte le mie commissioni, poi dopo mi vado ad allenare, yeee. E spero di registrare il video dell'allenamento più presto, perché sto facendo un allenamento super bomba. E voi me lo chiedete sempre, quei rossetti nude che utilizzo sempre, metto quotidianamente, quindi mi vedete nei vlog. Di solito utilizzo questi due, che sono di Nabla, qua si è tolta anche la scritta perché è vecchissimo. Questo è Paloma, non so se ci sia ancora, però davvero da tanto tanto tempo se riesco a parlare. Ed è super consumato, ed è bellissimo, nude troppo troppo bello. E invece poi c'è quest'altro che dovrebbe essere più recente, si chiama Closer, può essere? No, Chuser, non lo so, c'è cancellato, comunque vedete così. È sempre un nude, però praticamente più opaco. Cioè la differenza è questa, è che questo qua, secondo me è stupendo, più bello ancora. È un nude pescato, invece questo qua è un nude un po' più scuro, però molto molto opaco. Questo questo, com'è bello, lo adoro, da questo effetto così, sembrano le labbra più voluminose. Io sto mettendo praticamente sempre i rossetti nude, sembrano le labbra più voluminose. Infatti anche voi me lo dite che mi stanno bene, quindi poi quotidianamente figuriamoci se mi metto a mettere i rossetti... Mi piace truccarmi così. A voi piace questo look? Look? Wow, c'è un sole bellissimo. Sempre così, dai. Che bello. Sempre un bellissimo sole. Ragazzi, sono uscita. Senza far colazione, senza nulla. Perché devo andare a comprare l'acqua, ho finito anche l'acqua. È bello, quando inizi la giornata cursule, è proprio un'altra cosa. Cioè, almeno io adoro, sono molto meteoropatica. Poi sono andata a prelevare, devo pagare l'affitto. Non c'è una cosa più brutta che pagare il proprietario di casa. Perché sono tanti soldi che tu butti e... Non lo so, è una cosa più brutta. A me una volta mi piange il cuore pagare l'affitto. Però, insomma, bisogna farlo. E niente. Poi devo comprare l'acqua, perché mi è finita l'acqua. E voi sapete che io senza acqua non vivo. Veramente sto male. Senza acqua non posso stare. Comunque mi sono resta conto. Praticamente sono le 10 e 20. Incredibile. Io già sto per strada, superattiva. Ho fatto tutte le mie cose. Sto facendo tutte le mie commissioni, le cose. Adesso comunque dovrò andare a casa a lavorare, a far uscire un nuovo video di oggi. Poi devo registrare qualche nuovo video, eccetera. Ma mi rendo conto che facendo queste cose a un orario umano, in cui tutte le persone alle 10 di mattina vanno a prelevare, vanno al supermercato, vanno al bar, trovo più confusione che nei miei orari anomali. Perché io sono abituata, comunque oggi è stato un caso che mi sono svegliata alle 8 e quindi ho fatto già tutte le mie cose. Di solito io, ad esempio, mi sveglio più tardi. Quindi negli orari in cui io esco, ad esempio, la gente sta pranzando. Quindi io non trovo nessuno e faccio tutto bellissimo. C'è tipo la sera, ho tirato al supermercato alle 8 di sera. Insomma, queste cose qua assurde. Comunque sono ancora un po' assonnata, ma felice, perché si sta avvicinando l'estate, estate, ma io già voglio andare a mare. Sono troppo troppo felice, troppo troppo gasata. E com'è bello quando le persone ti sorridono e anche le persone, diciamo, estranee. Io metto a parlare con tutti, sorrido alla gente e sono felice e vi voglio bene. Voi come vi va la vita? Voi, 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 voi. Buona giornata, buona giornata, buona giornata, buona giornata, buona giornata. Vabbè ragazze, è finita l'acqua, cioè il supermercato è finita l'acqua a vita snella. Me ne sono andata e non ho comprato l'acqua. Voglio solo l'acqua a vita snella. Aspettate che mi arriva Whatsapp. Non so voi, ma io quando mi arrivano i messaggi Whatsapp, io già dal suono del messaggio riconosco chi è. Cioè, non so se... Cioè, il suono è sempre... Vabbè, questo è il suono del gruppo, dei gruppi. Però anche se mi arriva... Ad esempio, quando mi scrive mio padre, non mi arriva mai un solo Whatsapp. A me ne arriva certamente fatto... Perché lui mi manda tipo dieci messaggi l'uno dopo l'altro, un ansiogeno. Oppure tipo, se mi arriva solo uno, magari, tipo per esempio, è mia sorella che mi risponde a monosillabi, a qualcosa che io gli ho scritto tipo un'ora prima, ma lei un'ora dopo, io ho scritto tutto un romanzo. A lei, sì, di uno. Comunque, no, vabbè, facciali sale. Comunque, modi di approcciare, di conquistare le ragazze, tramite l'acqua. Cioè, io sono uscita da qua, e uno che va a posteggiare, mi ha detto, ma non l'hai trovata l'acqua? Come mai? Non l'hai trovata l'acqua? Mi voleva fare tutto il bellino. Mi sono girata. No! Spaventato, sono andato. Beh, via. Possa via. Ragazzi, basta. Non devo essere cattiva con tutti gli uomini e allontanandosi tutti da me, perché gli uomini sono una bruttazza. Sì. Oddio, sto qua dietro, vi giuro. Mi giuro, sto qua dietro a parlare il cellulare. Io ora fungo. Ciao! Oh! Saprei che fare, che cosa dire, per farti ritornare qui. Come stai? E adesso cosa fai? Invento una scusa, un'altra poesia, per farti innamorare. Ragazzi, questa è una canzone che mi hanno appena dedicato. Mi è arrivato un messaggio, Whatsapp, in cui mi è stato detto ascolta questa canzone, te la dedico. Quindi mi sono un po' emozionata, bellissima. Amate e innamoratevi. Amate soprattutto al momento giusto, che poi non c'è un momento giusto per amare. Amate tutto quello che vi viene di bello nella vita, perché molto probabilmente non capiterà una seconda volta, quindi non lasciatevi scappare le cose belle per paura. Amate chi vi ama e quello che vi fa stare bene. Questa è una cosa, sembra semplice, ma spesso non lo è. Spesso scappiamo, si scappa dalle cose belle, semplicemente per paura, perché ci spaventano, perché sono troppo grandi. Ma l'amore è proprio bello per questo. Anche perché poi in un giorno può capitare che ti accorgi che magari hai perso qualcosa, e quindi è meglio amare quando una cosa ce l'hai, dimostrarlo, che poi magari sarà troppo tardi. Il momento giusto non è, il momento giusto è adesso, non esiste il momento giusto, è adesso. Prenderlo quando ce l'hai davanti, è una cosa bella. Io sono sempre a favore dell'amore, a tutti i costi, quindi per me l'amore veramente è la cosa che viene prima di tutto, ma veramente per me non c'è niente di più grande, di più forte, di più importante dell'amore, davvero. Ma non parlo solo di amore, di coppia, di amore... Anche sì, l'amore, io non mi ricordo di dire che credo nell'amore, quello delle favole, l'amore quello travolgente, ho bisogno proprio di amare, di essere amata forte, cioè non mi accontento di una cosa così piccola, quindi... Però parlo anche di amore, amore per il proprio lavoro, amore in tutto ciò che fai, in una passione, fare tutto bene con amore, amore per i propri genitori, per la propria vita, i propri cani, insomma, qualsiasi forma di amore, amore anche per cucinare, per il cibo, bisogna coccolarsi, amarsi, amare, dirselo e... e farlo. L'amore non si dice, l'amore si fa, non è vero, l'amore si dice e si fa. Eccoci, eccoci a casa, mi sono tutta la spesa qua, so che poi questa non è spesa, sono piccole cosine che ho comprato a volo, perché praticamente la spesa l'ho fatta a ieri, cioè me ne sono trovata là, ho detto, la rucoletta, i funghi, la giardiniera, l'insalata, la scossa, le verdure che vi ho fatto vedere prima, un po' di verdurine, una passata a birra, di salume, fessa di tacchino, prosciuttina, cosa c'è? Pupettina, amore, culina, vieni qua, fai un saluto a tutti. Dimenticata di farvi vedere, amore, quando si brutta, mamma, l'acqua, perché praticamente, veramente ho girato tutti i suoi mercati, nessuno aveva l'acqua, ho trovato una cassa aperta con solo cinque bottiglie, cioè incredibile, vita snella, mandami l'acqua, voglio diventare la tua sponsor. Sto scherzando, spendo tanti soldi di acqua, però veramente vita snella, se mi vuoi mandare qualche cassa d'acqua, io adoro l'acqua vita snella, posso fare lo sponsor vita snella? Allora, ragazzi, bevete acqua vita snella, per essere simpatiche, attraenti e belle, acqua vita snella, la tua acqua della bellezza, che ti rende la pancia piatta, vita snella, la pancia piatta, la pancia piatta, e la pelle luminosa, acqua vita snella, il mio segreto di bellezza, ah no, quella è un'altra cosa, comunque va bene, vita snella, mandami qualche cassa d'acqua, ti prego, non scherzo, però veramente è introvabile, da quando io l'ho mostrata nei video, tutti quanti andate a comprare l'acqua, vi state la snella, io non la trovo più. Finalmente a casa, mettiamo la rosa, nell'acqua, che bella questa rosa, che mi ha regalato, il mio fidanzato, bellissima, adesso la devo un po' accorciare, e la devo mettere qua dentro, in questo vasetto, bellissimo, lui è l'uomo delle rose, mi regala sempre rose, sono stanchissimo, sono a casa, con tutti i piatti sporchi, mi sono messa in pigiama, mi sono messa anche la vestagietta, perché benché faccia caldo, io ho un freddo addosso, perché sono stanca, e perché il mio fidanzato, è una mucca, ecco lo sta salendo, invece di farne oggi, dovevamo mangiare il pollo, è andato a fare il panuzzo, e la pizza, quella mucca, hai comprato il panuzzo, il pollo, il pollo, questo, avventatemi, cioè io stavo tutta tirata, stavo, oh mio dio, ce ne aspetta, no, ma perché, cioè tanti, troppo, questo è ragazzato, stai scherzando, e ora, che sono male, che sta rovinando, stai scherzando, no, siamo rovinati, no, ma la cosa bella, io stavo tutta tirata, c'avevo un addome stamattina, è partito, è partito, va beh, è sì, stavo scoppiando il pollo, poi, ho chiamato prima mia sorella, ha detto no, devo sgarrare io, sgarrare tu, e lui ha detto, vuoi venire, io sto facendo il pollo, qua pollo, vieni a mangiare il paluzzo, perché ti devi ingrassare, anche tu, è capito, lei si voleva fare il pollo, ragazzi, però che bello, una giornata, c'è, io stavo stanchissima, come stavo triste, adesso devo andare a casa, sono stanca, mi devo cucinare, anche il pollo, che non ho neanche voglia, non ho fame, e poi il paluzzo, mi è venuta la fame, a me non mi piace queste cose, che pesce che ho pollo, no, poi a sentire il paluzzo, è venuta la fame, non c'è venuta la fame, poi gli ho detto, e poi, con la scusa, così non devi neanche cucinare, ho detto, vabbè, è viva, aspetta una mano, cioè, oltre tutto questo, si mette anche, il pizzaiolo, che ci regala, cioè, non ce la faccio, per farci ingrassare, patatine, e, frittatine, no, frittatine nuove, queste qua, nuove, vabbè, pure se erano usate, noi ce le facciavamo, a chilometro a zero, ok, e poi qua dentro, facciamo, no, mamma mia, evviva, e qua dentro, facciamo vedere cosa c'è, questo è un regalo, no, questo è un regalo, questo è pagato, è fitta, bello, è roba, oh, evviva, porchetta, allora, è fitta, amore, eh sì, porche, no, sassicce e frarielli, amore, questo è fitta, e melanzane, porche, ragazzi, fate schifo, siete delle mucche, aspettate, non diciamo niente a nessuno, la provola che sgorga, ed ecco a voi, ed ecco a voi, una pizza, fitta, ole, la margherita è fitta, e le cose, è senza olio, vera pizza napoletana, chi ci crede, che è senza olio, amore, senza olio, però, è crocca e fitti, quindi, vabbè, ma sto panozzo è qualcosa di croccante, buono, vabbè, ciao, ci vedremo domani, con meno addominali, e più fatti, allora da dietro, allora non sa che cade, buon appetito, buon appetito, Paolo, mi ha detto pulito, no, ragazzi, sassicce e frarielli, e poi, per farlo ancora più ingrassante, ci mettiamo anche le patatine dentro, Yumi, buon appetito, buon appetito, ma a te quante sassicce, però, oh no, guarda quella, quante sassicce, a me, cioè amore, a me non ci stanno proprio le sassicce, stanno dall'altro lato, ah mamma, ok, ciao, buon appetito, ma la maionese no? dai, no, l'hai compratta, l'hai presa? no, e poi che? io so, perché è fitto, perché è fitto, e poi ingrassare, invece questo fa di una griglia, se lo fa ingrassare, mi ha preso, ciao, c'è, c'è, c'è tutte le mani bruciate, mamma mia, scoppiando, stiamo vedendo la replica della commedia furinivica, troppo di Salemme, la voce, Quartieri espanholi Dove abita? Anaboli 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 Quarteiro espanholi Adorello espanholi Adorello espanholi Adorello Adorello Via Doledo Via Doledo Via Doledo Quartieri Spagnolo Troppo bello Ragazzi coca cola a zero Perché sennò ci ingrazziamo Con limone E limone perché Detox Per digerire Neanche cannonato Secondo me Per finire Baci le leggine qui Pure questi sono qui La scala Guarda quanti Vedi Lo vuoi tu? Uno solo Poi dobbiamo leggere il bigliettino Poi sono belli eh Dove si apre L'amore L'amore di Dario Immenso come il mare nell'oceano L'amore di Mario Mario Si è affogato Qualcuno l'ha capito Mario Ripeti che c'è scritto? L'amore di Dario è immensa come nell'oceano Come nell'oceano Si è affogato l'amore Le pieghe d'amore Guariscono soltanto con l'amore No le piaghe Scusate le piaghe d'amore Bellissima E questo l'ho scelto tra Uno, due, tre, quattro, sei, sette, oltre, nove, dieci dodici Eh Bravo amore Conservalo Un'annunzia Già l'abbiamo dato Annunzia a te che sta scritto? Leggo tutto in spagnolo Che io sono spagnolo e voi non sapete E sta qui E sognava contigo Il fresco palameo carcao ardente Vorrei Vorrei Ha non so che assimilare ma sta bene che opposto Sono bravo eh Sono bravo insieme Amasi la persona che il destino pone il tuo cammino Sono troppo bravo Questo è bello Ragazzi non stiamo bevendo il vino eh Non sono scioccolato Se ridas di amore solo con l'amore se puoi dar curare Ma che è? Massaggio al cane Dalla come si rinassa Dalla come si rinassa Dalla come si rinassa Dalla come se la gode Dalla come se la gode Ma non ne vuole essere al suo posto Sei industato, ma che devi dare una marmo? Quando lo dico io? Mamma mia E' bella pupita Le manine Le manine Non ci piace qua? Sì, grazie, che bello Madonna, che godimento Mamma, che te è mangiato Ciao 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 Sono Alessandro da Roma Mi fai ascoltare la grande regala per te Con gli amici ma ne ho cantando insieme a tutte le sue amiche Grazie Ciao Buona Pasqua a tutti Ciao Sono sola a casa mia Che mi faccia compagnia Io che gioco con la mente Sì, sta buonissima Che non so Me la prendo con la gente Ecco, pronti per un meraviglioso pranzo in famiglia Allora abbiamo le bruschette Abbiamo preparato Buonissime Poi abbiamo preparato un antipasto di salumi Qua c'è salame, ricotta, olive, ecc E qua ci sono altri salumi Capicollo, prosciutto, provolone E questi Guarda, questa è una cosa troppo carina Guarda qua Sono tipo delle provolettine Con prosciutto che erano sott'olio Questo è solo l'antipasto Immaginate un po' tutto il pranzo Lasagna con polpettine Di questo vi facciamo pure il video Un po' di tempo fa su nostro secondo canale Comunque è buonissima la lasagna È una bomba Aspetta come la porta E se ne scappa Adesso vi faccio vedere la borsa delle sorprese Eccola E' Pasqua Guarda come bella Si è scritto sopra Buona Pasqua Cosa c'è dentro? Ragazzi, usciano tante cose belle Questa è quella Delle sorprese Perché io ho detto che mi piacevano la busta delle sorprese Quando ero piccolina Comprovo sempre dal giornalato le buste delle sorprese Allora, cosa c'è dentro? La cosa Che l'ho fatta io Ma dopo ha un profumo buonissimo È un uovo fondente Che io lo volevo fondente con le nocciole Perché non lo trova mai E lui l'ha fatto fare Penso sia artigianale Giusto? E comunque c'è un profumo Aspetta, senti il profumo? Si sente? Ok C'è un profumo buonissimo Pieno di nocciole Abbiamo voglia di mangiarlo Questo lo mangerò dal primo all'ultimo boccone Tutto io Non ti farò assaggiare nulla Tu dici? Sì È bello rumbo No, scusa Comunque Fa un profumo bellissimo Fondente Nocciole È bella Poi c'è il bigliettino Che è particolarissimo È fatto così Sembra un bouquet E poi quello che c'è scritto Non lo possiamo dire Privato Però è bellissimo Proprio è Simpatico Poi Ci sono delle cose di vestiti Ah poi c'è un mare di ovetti C'è una soletta Questi ovetti qua Moltiplicati per 10.000 Dureranno per tutta la vita Poi ci sono dei vestitini Giustamente Da black and white Certo Ma mica si è spinto Sono i tuoi rumori C'è il palino rosso? Sì Ok Questa camicetta Che mi piaceva tantissimo Con le farfalline Rossa Poi Questo leggings Stupendo Che è bellissimo Perché c'ha sopra Questi inserti E adesso non rende Quando lo metti addosso Si vedono qua Tutti il ricamo Praticamente è velato Giusto? Sì E io l'ho anche provato E mi piaceva tantissimo Che è stretto 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 Troppo bello E poi questo Questo è troppo carino Che spero sia maldrattato Comunque è un zacchino Troppo carino Che si può mettere anche Di ecopelle Che si può mettere anche Aperto Si apre con la ce nera Devo diventare tutta ciccia e brufola È vero? Devo diventare grassissima No ma tu sei bella E cioè te li compro Eh vabbè Però ti mangio tutta questa Poi tutto questo Poi tutte le altre cose Divento Devi più bella Ancora? Sì Vabbè Se lo dici tu Vabbè Mamma mia che bella Non è sempre disturbata Auguri buona Pasqua Buona Pasqua Buongiorno Buongiorno Che bella colazione Chi c'è? Si va in Costa Smeralda Non lo senti 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 No ma è bel tempo Oggi Ma c'è il sole dentro C'è il sole dentro però C'è il sole che andrà a cicaiare Guarda Guarda Sono sole Oggi la soffra di sole Noi già siamo partiti Per le vacanze Noi già siamo partiti Stiamo andando in Costa Costa Sani Questa sarà la canzone dell'estate Questa è la canzone dell'estate Con questi occhiali mi sembra i vendizi Partito a Devo così Questo non ciò si farà Chi crede farà Alla prossima Grazie per la visione!